Ehi ragazzi, ciao a tutti e ben tornati con il Cosa Favre in Chispo Letra 19, siamo qui ragazzi con il Robimello 81 Oggi non ho detto il nome della mappa, perché sinceramente non lo imparerò mai Siamo sulla Nächste Streichen Bocche Streichen Sì, sì, Catoffen, vabbè, comunque sì ragazzi, oggi facciamo una bella cosa perché diciamo che a caricare la legna con questo ci si mette mezza giornata Quindi in pratica ho rimesso la mod, quella autocaricante, soprattutto me l'avete detto voi Nick, dai piglia l'autocaricante perché qua ci si annoia con sto coso, ci metti vent'anni E allora, prendiamo l'autocaricante, configurazione ruote, pneumatici larghi, a voglia, conviene, così magari mi ribalto dici mila volte meno Bene, e a sto punto Roby ti lascio una cosa molto semplice, taglia gli alberi Oh, vado sulla Cuma Aspetta, comazzo mio, senti, tagliali però a otto metri, ah no a sei Ok, poi è impostato a sei, tagliali a otto metri, perché sennò qua va a finire che ci mettiamo vent'anni Otto metri, ok, tranquillo che qui so esperto Allora finisce male Molto male Allora io ragazzi vado a pre... ancora dobbiamo comprare prima o poi un bel camion, questo è vero Però per ora abbiamo il dolly Ce può bastare Io comunque raga ho già portato tutta la paglia al composter E quindi mo in pratica poi successivamente andremo a ricavare insomma soldi dal composter E che altro? Boh, non mi ricordo Non ricordo cos'altro ho fatto Ho fatto un po' di cose per portarmi un po' avanti, ma mo non mi ricordo che altro ho fatto Va beh C'è da seminare, c'è da seminare, ho già messo il digestato Ho già messo il digestato nei terreni C'è teoricamente anche l'erba da tagliare Lo so, volendo c'è il trucchetto che ci fa guadagnare un mucchio di soldi Però non è proprio bellissimissimo Ma non mi va troppo di usare il trucco Te Robby non so se lo sai ma ho trovato un trucco per fare un botto di soldi qua in sta mappa Ah si? Cioè? In pratica... beh vale per la Global Company Vale per la Global Company In pratica posso comprare la Pula per farci l'insilato Praticamente cos'era? Ah ok Praticamente con 160 euro ci faccio 1000 di insilato Con 160 euro faccio 1000 di insilato 1000 di insilato vale 1050 euro Praticamente spendo 150 euro e ne guadagno circa 900 Ah mica male Però giustamente è un po' Eh certo Hai capito Io non capisco perché non riesco a fare su e giù Cioè allora Eh? No nel senso Allora il costino si muove qui vedi a destra e a sinistra Ma non mi va il braccio su e giù Ok scaccavi perché lo... Qui 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 chi guarda la live dice ma che dice questo? Non mi va su non mi va giù il costino Il braccino della Komatsu qua non non si muove Cioè ma ci va giù questo? Ci va giù quando c'è quella giusta Aspetta Non posso dargli assaltezza qui è troppo alto Eh un attimo mi stiamo andando in confusione Io manca la legna sto a caricare più Ma perché non me la carica sta legna maledetta? Perché? Non mi fa ridere Non mi fa ridere e poi faccio il versetto del maiale Non mi fa ridere Pure Allora Un attimo un attimo Compa un attimo un attimo Allora raga Stiamo calmi eh Dovemo staccarmi perché Famo una cosa senti Io qua l'ho già caricato Fai una bella cosa Vai a vendere tu va Ok Sì però mi fai vedere se a te ti si alza Cioè se si abbassa Perché a te si abbassa? Ma che tasto usi? Ma io uso il mouse E io pure Perché non va giù? Devi tenere click sinistro E poi fai quello che vuoi Bah dopo ci riprovo Adesso vado a vendere va Tutto molto strano raga Eh certo 8 metri Vai Compa vai vai Vado vado In segheria Dovado In segheria Sì che qui ci sono 800 punti vendita Vai 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 Sì sì In segheria Brava Ci vuoi mettere l'autoload Aspetta E tu sta Aspetta Giù a sinistra Giù a sinistra dovrebbe stare nella mappa Giù a sinistra Ah Sagerwek Eccolo qua Sagerwek L'ho trovata Esatto Vado vado come un furetto Allora io devo anche restituire quel Devo restituire quel coso là che ho preso a noleggio Che mo non mi serve più Garage Noleggio Questo non mi serve più Lo restituiamo Ok Ah mo faccio anche una cosa Compro quello per rimuovere i ceppi Vai Vai Questo non mi serve più Komatsu Via satellite Via satellite Tipo la live Capito C'ho 20 secondi Eh certo Perché vivi Ma tu pure Quindi tu vivi Tu vivi su Marte Esatto Via satellite Vivo Vabbè veramente su Marte Il ritardo è di 5 minuti Se non ricordo male Non lo so Ah io sono leggermente più informato Oggi che è martedì Quindi No No sai com'è Sono leggermente più informato Perché sai Ho fatto le vacanze Su Marte Quindi Come sono le marziane So carine Eh so carine Un pochettino Diciamo Bruciate Verdi Verdi Ah ok No in realtà però Il pianeta rosso Non è caldo È freddo È mercurio Mi sa quello più caldo No che è più vicino Sì però Solo quando Solo quando Il sole Gli punta direttamente No Ah ecco Perché Perché non c'è L'effetto Serra No per via Vabbè qua siamo Qua Com'è che si chiama Betto Angela No ma finì che Sì Buon faccio la musichina Ti sono arrivati i soldi Sì No Stiamo parlati Di scorsi Di scena Vabbè qui si impara E giochiamo e impariamo No 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 Veramente io No veramente io Mi sono voluto fermare Perché non vorrei che dico Qualche fesseria Quindi Quindi voglio dire Vabbè Qualcosina la so Ma meglio non parla troppo Perché poi Vado a fare brutta figura Giochiamo E impariamo Con rabbia nicchè Cos'è Un gioco per bambini Di 5 anni Che figura però Non mi ha funzionato No Ci mancava solo Che alla fine Alla fine ci mancava Soltanto Giochi preziosi Oppure Clang clang Oh che mi hai ricordato Il jingle Della giochi preziosi Quando ero piccolino Mamma mia Io di giochi preziosi Non c'ho mai avuto niente Mi sento vecchio Dominic Ti senti vecchio? Mi hai fatto sentire vecchio Questa cosa Vabbè dai Guarda dai giochi preziosi Ti trovo un po' Passi all'amplifon Non sei contento? Amplifon preziosi Ai 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 E infatti Prima non ti ho sentito Quello che hai detto Questo è un primo sintomo Appunto Ho preso la strada più lunga Ti pareva? Ecco Di fatti mi stavo chiedendo Ma come mai Io ho finito Qua di tagliare la legna Lui ancora Non puoi capire Sono passato Non ho puoi capire Sono passato Sono passato Dallo shop Ah si Ah ecco di là Ti vedo Perca miseria Ho sbagliato Una Un imbocco La cosa brutta È che mi succede Pure nella realtà Su Sai quante volte Allungo le strade Di Mezz'ora Un'ora Vabbè Io mi ricordo pure Che una volta Mio zio scendeva Dalla Germania E Però Ha sbagliato strade Invece di scendere È tornato su Magari ha detto Ma sto posto Ma è familiare Dice Ma ci sono Già passato Guardi qua Uh Quanti tronchetti C'è la taglia Tu sanno quello Vero? Sì 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 Allora Con la O Scegli il lato Da dove vuoi caricare E con la B Carichi Ok ragazzi Voi state Tranquilli Quando vedo Quando è pieno Quando non carica più No Veramente Quello carica all'infinito Ok Mi devo regolare io Ok Allora Famo che basta Va Bravo Bravo Aspetta Mi devo ricordare la strada Allora Campo 20 Teoricamente a sinistra No Allora Devo passare qua giù No Se no ci mandi l'auto L'autodrive Se vuoi E' segnata la sigheria Uh Che spettacolo Così non mi perdo Ma ti scala i sordi L'autodrive No Sì sì Ma mandicci l'autodrive Te puoi cominciare a seminare Sti terreni Ah va bene Allora Io restituisco questa Che ormai non mi serve più Ce l'ho mandato Ah Vediamo un po' Sì Ok Io uso questa qua Per rimuovere i ceppi Vediamo un po' Questo da qua lo togliamo Che dà fastidio La seminatrice Eccola Boh Non lo so Semina Non lo so Non lo so Allora Da uno sguardo Vai Allora L'altra volta abbiamo fatto I tulipanini Ehm Emo ci facciamo I Parca miseria Ce l'ho Sulla lingua Ehm Niente Ci facciamo le gallette No Ma le gallette sono Le mogli dei galli Allora No Tu hai detto Tu hai detto I tulipanini Tu hai detto Panini E io dico Ci facciamo le gallette Però Veramente Però mi veniva Di qualcos'altro Come pane No infatti Lasciamo per Allora Ehm Scarichi Che cos'è quella bianca Che si chiama Baumwolle Baumwolle Ehm Dopo le Cioè Qualcosa che ti dà 3.659 euro Senti Ah il cotone Il cotone Il cotone Il cotone Non può essere Purtroppo Non ce lo danno Se aveva un terreno Grande Magari Oppure che l'abbiamo in affitto Allora Secondo me Caro Nick Che O i girasoli O la soia Stanno a buon prezzo Metti Orzo Ok Sai perché Perché la paglia La paglia La vado a mettere Nel compost Subite Allora scusami A sto punto Facciamo arena Che te la pagano di più E fa paglia lo stesso Ah va bene Va bene Sì Mica malo Mica malo Sì sì Così i cavalli Che non lo so contenti I cavalli immaginari Ok Vamos Vadi Vadi Alla playa Io sto inseminando Sto inseminando Questa vena Ah ah Io sto inseminando La vena Stai inseminando La vena La vena La vena Senti ma Parli tutte le lingue Insomma Moi lingua Moi lingua Io ho Habla Moi lingua Se tu vuole Habla Spagnolo Se no Habla Italiano Magari Se ti togli La bistecca Dalla bocca Quello che è Era una patata Che metto Per Oh Che è Niente Niente Ah Hai fatto il lavaggio Al trattore Vero Niente Te non hai visto Cosa mi è successo L'altro giorno Ma ti è successo Pure a te No L'altro giorno Mi c'è finito dentro Il cassone Pieno di composto E per tirarlo fuori Ma la son vista Brutta Ci ho perso 20 minuti per tirarlo fuori Il cassone dal fosso Per tirarlo fuori dalla fosso Mi sono dovuto aiutare Con la comazzo Allora Allora Ultimo ceppo Acceso Eccola là Eh Eccesissimo Allora Mo Dovrei vedere Intanto che Fino ha fatto L'operaio Che doveva vendere La legna Perché non ha detto più No Forse è arrivato poco No forse è arrivato poco fa Non ci abbiamo fatto caso Secondo me Se è fregato tutta la legna E sarà andato Eh può essere Allora vediamo un po' Dove è Ah eccolo qua È arrivato Io con la legna Uuuuh Gli avevo fatto un bel carico Io con la legna Non vado molto d'accordo Capito L'avrei capito No no E beh ovvio Ehm Dove si trova Ce l'hai tu il trattore Quello col Caricante Il coso da mano Sì Il Massey Sì Ti serve Eh se no te lo lascio C'hai la benna No la forca Lì come si chiama Sì 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 La forchetta Eh La forchetta Bravo Poi mi vai Ecco Poi col coltello Pure Allora Vai Vai nel negozio A prendere i pallet C'è un pallet Di Vai nel negozio A prendere il pallet Il pallet Di piantine Che semino di nuovo Alberi Ok Senza Senza ovviamente La seminatrice Ok Ma che terribio Vado con la forchetta Aspetta Che cosa Che problemi ha Vado con la forchetta Vai 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 Ok Dalle pecorelle Diciamo Sì Li metti manualmente Yes Ok Sto trattore Ce la fa benissimo A seminare Siamo vicinissimi Comunque Con lo shop Meno male Già Ecco proprio lì Proprio tu Quasi dove sei Ecco lì Lo vedi Sì 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 Ti ricarico No a parte lo ricarichi tu Questo Sì L'appoggio qua Appoggia Appoggia Allora A posto Compa Ok Ti devo Credo Rimettere Sì Promuovi Ok Bene Sto a fa Tutti i contorni Così mi Mi tolgo l'acqua Che altro C'era Ah ci stai già tu Lì Ok No no Ci puoi andare tu E il trattore Questo te lo lascio Ok Sei Agli ordini Ah c'è l'operaglietto Ok Buongiorno signorina Si può togliere Ah ma era maschio Vabbè Ma so confuso Ma che ha ricastro Cacchio di coso Che succede Eh c'è sempre da capire Il lato giusto Avrei sbagliato Il latino Eh appunto Io gli parlo in italiano Ma lui non mi ha capito No quello in latino Il senso Il lato Diminutivo Affettivo Diminutivo Significativo Affettivo Che dobbiamo affettare Prosciutto E poi mi dice pure Che teniti Capito Aspetta Aspetta Che qua non raccoglie Porche miseria Eh Chi semina vento Raccoglie Tempeste Tempeste What? Ok Ah si ho capito 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 Sbagliavi Che sbagliavi Niente No perché se non pulisci L'albero al 100% Non te lo raccoglierà mai Ok Ho capito Se c'è la fogliolina Se c'è la fogliolina Non te lo raccoglie proprio No ma come siamo viziati Caro carro Già E che cos'è Aspetta Un attimo Pecora No Dobbiamo andare a Segheria Sì c'è un pochino Trocken Ok Questo va alla segheria Questo non c'è niente da fare Beh in realtà Ci sarebbe da tagliare l'erba appunto Per esempio Per esempio Qui c'è da liberare Che non si passa Quindi Questo mo' lo lasciamo qua Bene E mo' Vediamo di lavorare un po' Cos'è? Ho visto che hai messo la compost air La compost air Yes 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 Pure lì si può comprare il carburante Si può comprare il carburante Si si puoi comprare tutto Già Voglio fare compost Io voglio fare compost Mi ho già fatto un botto Con la paglia Vamo con la paglia Oh 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 Facciamo il compost Oh 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 Allora Boom copyright Si Facciamo anche l'erba Che è importante Mo' Nick Ce lo metti il DLC class Qua oh A proposito Mi devono Ma esce la platinum No? Si il 22 Penso a te Te la manderanno prima Sì mi hanno scritto Mi hanno detto che giorno 18 mi danno il DLC Ottimo Però in base all'orario posso fare video praticamente da sabato Che è il? Il 19 Il 19 Vabbè te li prepari No no Il 19 già posso far uscire Ah ok Anteprima posso fare i video prima Poi lo metti su sta serie in modo che riempiamo la farmia di classe A me piacciono tantissime classi Sì classe primaria, secondaria Terza A, quarta A la classe Sì sì ci metti i professori C'è il preside C'è l'ora della merenda A voi è tutto Non manca niente guardi Comunque sì dai Tra un po' Mettiamo Bello Mettiamo la dominator Mettiamo la scolla Lo sterminator Tutto ci mettiamo Mettiamo Tanti soldi ce l'abbiamo Insomma ce l'abbiamo 127 euro Però dai Ok Oh quello cavolo come l'ha preso Ok E io penso che Bah l'ultimo viaggio c'è Attacca Ok Tutto fatto Vai alla segheria e non ti ribaltare Disgraziato Allora come cavolo è che funzionava qua Che non mi ricordo Remove 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 E li metto qua Secondo me si ribalta Perché l'hai caricato Ok L'hai caricato tanto Remove Eh già Allora Seminiamoli Piantiamoli più che altro Cominciamo dal primo alberello Ora li metto ogni 25 Ogni 25 Con l'ultimo carico di legna Dai che arriviamo a 200 mila euro Euri Euri 200 mila euro Almeno 45 mila euro Abbiamo guadagnato Un botto di soldi Dai un botto di soldi Abbiamo 213 mila euro Ora poi ragà Pian piano decido cosa comprare Va bene ragazzi Allora dai Il tempo vola Penso che ci fermiamo qua Quanto meno Abbiamo venduto la legna Abbiamo ripiazzato la legna Abbiamo Beh quasi finito di lavorare I terreni qua Di Aveco L'Avena Sì sì Uno è finito E vabbè E vabbè Comunque dai Qualcosina l'abbiamo fatta Ora poi vediamo come spendono Un po' di soldi Ragazzi Quindi speriamo che il gameplay Vi sia piaciuto Come sempre commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Vi ricordo che in descrizione Trovate il canale di Robymello81 Trovate un link Che vi permette di comprare Questo gioco scontato Ancora per poco C'è il giveaway Su Instant Gaming Trovate il link Anche di quello Potete vincere un gioco A vostra scelta Se non trovate il link Vuol dire che è già scaduto Vuol dire che siete arrivati tardi Se trovate il link Partecipate Quindi ragazzi Vi salutiamo Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.